Hai sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muori? La mandi in play e sei dentro un vero incubo. Appena finisce, il tuo telefono squilla e qualcuno dice questa frase. Morirai fra sette giorni. Katie ti ha detto che stava per morire. Sì, me l'ha detto. Ha detto che non aveva tanto. Vorresti dire che sono un ingento? No. O una che si spaventa? Sei un po' rastemica forse. Ho guardato la cassetta. Veniamo fin qua alla rete così se conosciamo. Veniamo pure con quei bottoni che hai galato, lì da più bello, così vedremo. Coraggio, fammela vedere. Signora Keller, mi preoccupano questi disegni. Perché hai disegnato quella casa? Perché me l'ha scolai. Chi? Chi te l'ha detto? Mi fa vedere delle cose. Qualcuno mi aiuti! Prima di morire si vede il cerchio. Immagini nella cassetta ci portano da qualche parte. Ti ha fatto vedere i cavalli. Tu non capisci, Regia. Mi dica, che cosa pensa di sapere? C'è qualcuno? Prima di morire si vede il cerchio. Ti vedeci. 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 Ascolta. Cagami un attimo. che ti pagare a guadagnare godito a nuore porco che lo sai che tagliate sette giorni è il power dog che ha bisogno che ha bisogno di skate come prima a farti il campo al quarto come prima a farti la casetta devi diviare che si muore asse a nuovea capina che rega buona guarda che ti tengo ti tengo di oggi vengo a tirare le gambe finché ti dormi invece hai torto le puttanate paga non sta a farmi scomodar che cosa ho più importante da fare che trova io lascia le impagni me stanchi tu Grazie a tutti.